Intanto prego il dottor Al-Shaman, presidente del World Halal Food Council Europa, di dirci anche la sua in merito a questa cosa. Grazie. Eccellenze, signore e signori, cercherò di essere breve. Il World Halal Food Council è un'organizzazione mondiale. Che apre le sue porte ai produttori dell'Occidente. Noi sappiamo tutti che Halal è un concetto importante per i musulmani, ma in questo momento, adesso che il mondo sta diventando sempre più piccolo, Halal sta diventando un concetto importante anche per i paesi produttori. Bisogna guardare Halal da un punto di vista religioso, educativo e commerciale. Dal punto di vista religioso, tutti i musulmani vogliono essere Halal, perché è un nostro precetto religioso ed è, in secondo luogo, anche la nostra identità. Una volta sono stato in Olanda ed ero seduto accanto al capo della polizia dell'AIA. Mentre parlavo con loro, mi hanno chiesto di che cosa mi occupavo e ho spiegato che mi occupavo di certificazione Halal. E mi hanno detto che trovavano qualcosa di molto strano nel mio lavoro. Perché ci sono dei musulmani che vivono qui e che chiedono cibo Halal. Io ho risposto che mi sembra una cosa buona, perché tutti i musulmani cercano cibo Halal. Halal non è soltanto una questione di scertificazione, è anche una questione di formazione. Molto tempo fa si insegnava già alle persone a macellare gli animali, a rispettarli durante la macellazione. Potete immaginare che questo avveniva già 1500 anni fa. Quindi il sistema per macellare gli animali era già stato definito all'epoca. Halal significa anche pulito, salutare, igienico. Ovviamente si intende anche Halal da un punto di vista commerciale. Quindi il mercato Halal, come tutti hanno detto prima di me, è un mercato enorme. E ci sono moltissime industrie coinvolte. Tutti parlano di crisi. E il tempo della crisi per noi, in quanto enti certificatore, è stato un momento molto pieno di lavoro in realtà. E vi spiego perché. Perché molte società che vivevano questo momento di crisi, stavano perdendo quadri di mercato in Europa, anni in Occidente, hanno iniziato a guardare verso il mercato musulmano e hanno iniziato ad entrare in questo mercato. Per fare questo, ovviamente, bisognava conoscere cos'era Halal e cos'era approvato. In secondo luogo, vorrei dire qualche cos'altro rispetto Halal Halal. In quanto World Food Council, noi siamo amici, in quanto membri di questo World Halal Food Council. Quindi vogliamo cercare di aiutare. Cerchiamo di lavorare assieme a tutti voi. Cerchiamo di insegnare i principi Halal e di aiutarvi ad esportare i vostri prodotti verso i paesi musulmani. Non stiamo giocando a Tom & Jerry. Corri e io cerco di acchiapparti, come facevano questi due personaggi. Noi vi spieghiamo cosa significa Halal, come funziona. Perché questo, se vi interessa, noi siamo pronti ad insegnarvelo. Io quindi vi ringrazio. Grazie ai miei amici qui e a tutti i partecipanti per averci dato l'opportunità di riunirci qui oggi assieme in questa bella città di Roma. Grazie Presidente. Grazie a tutti.